Virginia Maria Clara Von Fustenberg, nota stilista e artista, è stata trovata morta al primo piano dell'hotel Palace di Merano. La donna, originaria di Genova, ma residente a Milano, aveva 48 anni ed era la nipote di Gianni Agnelli. La tragica scoperta è stata fatta dopo che Virginia sarebbe caduta dal terrazzo di un piano superiore dell'hotel. La sua famiglia, composta dalla madre Elisabetta Guarnati e dal padre Sebastian Ego Von Fustenberg, aveva già vissuto una situazione di allarme lo scorso 18 febbraio, quando il padre si era recato presso la stazione dei carabinieri di Marghera per segnalare la scomparsa della figlia. Tuttavia il 21 febbraio la famiglia aveva comunicato suo ritorno a casa. Al momento gli inquirenti escludono il coinvolgimento di altre persone nell'accaduto e sembra che la pista più probabile sia quella del gesto volontario. Virginia lascia un vuoto incolmabile nella sua cerchia familiare nel mondo dell'arte e della moda.